La notte del divertimento, la notte degli acquisti più sfrenati, la notte da vivere. Finalmente ad Avola è arrivata la notte Shopping Sotto le Stelle, il primo grande evento che vi farà trascorrere una notte indimenticabile. Shopping Sotto le Stelle, sabato 3 luglio a partire dalle ore 22, presso il centro commerciale Il Giardino di Avola. Shopping Sotto le Stelle, una notte di musica insieme ai ragazzi di Sicilia's Got Talent e ai fuori tema. Una notte di divertimento con la comicità di Adriano Canonico e a grande sorpresa, direttamente da Colorado Cafè, Pietro Sparacino. Shopping Sotto le Stelle, sabato 3 luglio a partire dalle ore 22, presso il centro commerciale Il Giardino di Avola.